Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori pluviometri. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la TFA Monsun 47.3003. Per coloro che si chiedono come scegliere un eccellente impermeabile elettronico, un'opzione eccezionale è la versione Monsun di TFA. Si tratta di un impermeabile radio che, attraverso la trasmissione senza fili, consente di conoscere una notevole raccolta di informazioni utili insieme alla quantità complessiva di precipitazioni. Oltre a quella che si associa all'ultima ora, alle ultime 24 ore e alle ultime precipitazioni, ancora una volta, la temperatura esterna, la temperatura interna massima e anche minima. Al numero 4, abbiamo TFA 47.1008. Continuando con i nostri consigli di acquisto, attualmente discutiamo un design del TFA Dostmann, è, in questo caso, un impermeabile pratico. È un prodotto di produzione tedesca costruito con prodotti di buona qualità, funzionale, semplice da controllare. Consiste in un'assistenza che viene fissata a terra o su un palo e un contenitore graduato che è dopo che è stato eliminato. Al terzo posto, abbiamo la Netatmo NRG01WW. Tra gli indicatori di pioggia elettronici molto popolari c'è la versione Netatmo. Funziona solo con la stazione meteorologica. Netatmo non consisteva e ti consente anche di ottenere sul tuo telefono cellulare, tramite un'applicazione gratuita, la cautela non appena inizia a piovere. Da mettere nel cortile o sotto il portico ma lontano dalle coperture e dai pendii che possono modificare la corretta misurazione delle precipitazioni cadute. Al numero 2, abbiamo il Lacrosse Technology. Concludiamo la nostra carrellata di quali sono, a nostro avviso, le migliori offerte del 2021 con la versione dell'azienda leader nella costruzione di stazioni meteorologiche tecnologiche Lacrosse Modern. Allo stesso modo in questa situazione l'indicatore di pioggia ha una trasmissione wireless che raggiunge fino a 30 metri all'aperto. Quindi è conveniente a causa del fatto che è possibile ispezionare il livello di pioggia dall'interno della casa. È autodrenante e trasmette anche informazioni cordless alla stazione interna. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Gardman 16.080. Scendiamo dal podio e troviamo una versione a vario tasso di pioggia rispetto a quelle appena viste ma altrettanto benefiche nelle attività agricole o per preservare il benessere del cortile fuori dal residence. Ha un costo estremamente basso, un'informazione che lo rende migliore ad altri extra complicati se l'uso per il quale è pianificato è di tipo amatoriale. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.